Mi chiamo Giovanni Battista, sono nato a Vicenza, vivo a Vicenza e faccio l'architetto. La prima fotografia che è molto teatrale perché è una posa centrale dove la cosa che si nota di più sono le strisce pedonali che attraversano la strada praticamente sul niente o meglio su un marciapiede che non c'è e con una recinzione che non dà un accesso ed è una caratteristica abbastanza evidente di questo tratto di statale 11 ma penso sia analogo per tante altre statali dove le strisce pedonali che peraltro non sono tante quelle sulla statale 11 e queste qui addirittura è evidentemente evidenziata con il segnale luminoso per evitare che quando poi viene usata di sera o anche di giorno qualcuno possa mettere sotto il passante. Però la situazione che è interessante è che è questo aspetto di attraversamento verso qualcosa che ti impone di andare a destra e a sinistra. La seconda invece, la seconda foto che è un po' più disturbante perché un po' il teleobiettivo ammassa le cose e quindi non fa vedere quella che è la particolarità del sito. Qui è un altro degli aspetti, si può cogliere un altro degli aspetti della statale 11 cioè l'attraversamento dei borghi, delle frazioni che erano lì da sempre, in questo caso è Tavernelle Tavernelle perché si riconosce dalla chiesetta eccetera, dalle case dietro quindi un borgo abitato da decenni e secoli e che è stato poi trasformato dal diventare questa strada di collegamento tra Vicenza e Verona e quindi delle cittadine che vi sorgevano nel diventare un ampliamento commerciale, direzionale, produttivo di Vicenza e del boom economico del Veneto e Vicentino degli ultimi 30-40 anni quindi qui in questo punto dove c'è l'insediamento si nota la chiesa, la chiesetta e in questo caso, qui la foto non si vede tanto, però si vedono delle palme dietro qualcosa e in realtà è interessante vedere come in quel punto dove la percezione dello spazio il senso di casa, di paese, dei residenti ha fatto sì che qui ci fosse una cura particolare nel gestire lo spazio, adesso qui non si vede ma davanti alla chiesetta hanno fatto una pavimentazione c'è il muretto eccetera, quindi c'è quella specie di decoro così come viene normalmente percepito che invece lungo la statale non c'è o meglio è un decoro altro che col mio concetto di decoro ha ben poco a che vedere insomma e questa è una particolarità della statale che si può vedere anche in altri attraversamenti perché poi c'è Tavernelle, prima c'è Olmo, ci sono dei paesini e poi tra i paesi a parte un paio di punti dove ancora non si è saldata completamente la continuità edilizia di capannoni e di edilizie, c'è ancora quindi tra Tavernelle mi pare prima e Olmo c'è un punto dove sarà 500 metri dove c'è ancora un tratto libero senza capannoni dove si vedono campi e campagne e si ha la percezione del paesaggio sia da una parte cioè verso i monti a nord che verso sud e verso i berici e là si vede com'era quel tratto di campagna prima che fosse investito dal boom economico e quindi dalla proliferazione delle zone artigianali, commerciali eccetera 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 La statale 11 potrebbe essere intesa come una sorta di ampliamento della città in realtà non è un ampliamento della città perché lungo la statale 11 non ci vanno solo gli abitanti di Vicenza ma ci vanno da tutte le parti, ci sono negozi, ci sono ristoranti, ci sono cose, posti dove ci si diverte c'è un po' di tutto quindi l'uso di quello spazio è un uso non pensato ma che è risultato per essere vissuto mi varrebbe da dire nell'arco delle 24 ore ovviamente quella parte pensata viene pensata nelle zone, nei momenti della giornata che sono fruibili dalla maggior parte delle persone il resto è un uso spontaneo e casuale che si è generato da tutta una serie di fattori che si sono inseriti nel modo di vivere negli ultimi anni e che sono in parte anche stati forse stravolti, non lo so insomma Lungo la statale 11 chi progetta probabilmente penserà di fare o pensa di dover realizzare qualcosa il più in fretta possibile per poterla mettere a reddito oppure pensa di fare qualcosa che sia magari bello, piacevole o particolare perché questa è la richiesta di chi gli dà l'incarico e poi perché magari è il suo modo di esprimere la sua professionalità però tutta questa gemmazione di scatole, di zone commerciali eccetera poi le vedremo anche più avanti hanno sicuramente contribuito visto che si depositano nel vissuto delle persone hanno contribuito a un modo di leggere i fenomeni di leggere lo spazio e lo spazio così come si rappresenta o come si è rappresentato che poi si traduce anche probabilmente nel modo di parlare nel modo di muoversi, nel modo di vestire perché se vivo in un certo disordine o comunque in una situazione che sembra dominata dal caso o dal caos probabilmente il caos a un certo punto diventa parte del mio modo di vivere ed è quello che ci distanzia poi molto dai nostri genitori dai nostri nonni i quali invece vivevano pensate che 60 anni fa la Stratale 11 era non era diversa, era completamente diversa cioè tutto quello che c'è se noi lo togliessimo vedremo una strada con questi borghi fino alle città e basta e poi campi e campagne insomma quindi il cambiamento è stato così rapido, così veloce per cui era anche difficile governarlo forse si potrebbe anche governarlo meglio comunque è andata così quindi è inutile non si può neanche dire che sia bello o brutto a me non piace però la gente lo usa e quindi funziona male magari ma funziona bisognerebbe sentire i diretti interessati come vivono e percepiscono di notte quella statale la faccio in macchina come tutti per andare a Valdanio, Arzignano, all'Onigo insomma ecco faccio quel tratto quindi la conosco bene per quello e ogni volta che passo non la passo tutti i giorni ovviamente però ogni volta che passo vedo sempre che c'è qualcosa che è cambiato o demoliscono qualcosa adesso è da qualche anno che fanno le rotatorie quindi sono sempre impattanti le rotatorie anche perché le rotatorie prevedono un utilizzo diverso della mobilità e quindi non so per esempio prima di Alte adesso è rimasta quella chiesetta che era davanti alla Faeda è rimasta da soli isolata in mezzo di una cosa un po' ridicola è una cappella gentilizia che è rimasta in mezzo a una rotatoria e non so che fine farà insomma probabilmente sono queste cose un po' in trasformazione che di cui ci si rende conto con il tempo certo che chi la fa tutti i giorni magari neanche si rende conto si rende conto nel senso si vede i cambiamenti però facendoli tutti i giorni l'abitudine è un ottimo è un ottimo calmante insomma l'abitudine non ti fa vedere ti fa una selezione per cui le cose a un certo punto non le vedi più ecco